Villa al mare indagini concluse frattura indagato il governatore ha ammesso di aver ricevuto l'avviso di conclusione indagini solo dopo essere stato sollecitato sui social lui tenta di minimizzare ma ci sarebbero anche altre accuse in itineri. Migrante con tubercolosi impossibile ricovero in Molise si tratta di un nigeriano ospite da quattro giorni in una struttura isemia la TBC riscontrata al Veneziale ma non è stato possibile curarlo in regione per mancanza di posti letto. Come uscire da crisi documento della CGL. All'Areno il sindacato ha presentato un programma in cui sono individuate sei filiere per un nuovo sviluppo anche la CISL ha fatto il punto sull'area di crisi. Palasport Isernia Comune risponde a polemiche sul mancato adeguamento della struttura che avrebbe causato la cancellazione dell'Isernia Calcio a 5 dal campionato di A2 nota di Palazzo San Francesco che ricostruisce la vicenda. Calcio Serie D tutto esaurito alla Civitelle. Domani il derby tra Agnone e Campobasso pubblico delle grandi occasioni. I gruppi puntano a consolidare il primato in classifica. Gli altomolistani cercano il riscatto per uscire dal pantano. Buongiorno dal telegiornale di Telemolise. Dunque a distanza di tre anni cominciano a venire a galla e tanti misteri collegati alla Villa al Mare di proprietà dei soci della PTS Village Paolo Frattura e Gianluigi Torzi. Il presidente della regione ha ammesso, ma solo dopo essere stato sollecitato dai social, di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati commessi. Il governatore tenta di minimizzare, ma le accuse sono gravi e secondo indiscrezioni ce ne sarebbero altre in itinere. Il servizio è di Giovanni Minicozzi. A distanza di quasi tre anni il giallo legato alla Villa, ubicata sul lungomare nord di Termoli, di proprietà dei soci Paolo Frattura e Gianluigi Torzi, è in via di soluzione. Una storia raccapricciante di abusi, violenze e devastazione di proprietà altrui sulle quali la procura di Larino ha in parte messo un punto fermo comunicando ai diretti interessati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. La notizia è stata diffusa dal presidente della regione Paolo Frattura che risulta essere indagato nella vicenda e oggetto della conclusione delle indagini. I fatti sono noti. Nell'agosto del 2014 Paolo Frattura sostituì arbitrariamente il cilindretto del cancello di accesso alla Villa e piazzò all'ingresso una guardia giurata armata con l'ordine di non fare entrare nessuna persona che non fosse di suo gradimento. In tal modo Frattura impedì l'accesso all'affittuaria di un appartamento annesso alla Villa che risulta essere di proprietà della signora Iole Varanese. Nelle settimane successive l'affittuaria, dopo essere entrata con l'ausilio di un ufficiale giudiziario che eseguì la sentenza che intanto era stata emessa dal Tribunale civile di Larino, scoprì che il suo appartamento era stato pressoché distrutto totalmente ed erano stati sottratti tutti gli areti interni, compresi i servizi igienici. A quel punto i proprietari presentarono una serie di querele e le indagini si avviarono. Intanto il Tribunale civile di Larino per ben due volte accertò lo spoglio violento e clandestino nella proprietà altrui e decretò con sentenza chiara ed inequivocabile il diritto della signora Cerio ad accedere nel suo appartamento. Peraltro furono i testimoni indicati sia dalla signora Cerio sia dalla PTS Village, proprietaria della Villa, a fare luce sui fatti accaduti. Ma torniamo all'attualità. Secondo alcune fonti Frattura avrebbe ricevuto l'avviso dalla Procura diversi giorni addietro, ma solo oggi il Governatore, sollecitato dai social, ha ammesso di aver ricevuto la notifica, peraltro minimizzando i reati e le sue responsabilità. Lui stesso però, nella nota inviata alla stampa, ha ammesso di essere indagato per aver cercato di farsi giustizia da solo, impedendo ai proprietari di entrare nell'appartamento. In realtà, questo reato si chiama esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, a nostro giudizio, non è compatibile moralmente con il ruolo di Presidente della Regione, di avere invaso arbitrariamente un edificio altrui, reato di occupazione di terreni o edifici altrui, e di avere offeso la reputazione di quelle stesse persone, ovvero reati di diffamazione o ingiuria. Secondo quanto raccontato da Paolo Frattura, nella conclusione delle indagini non ci sarebbero i reati di danneggiamento e violenza privata, cheppure appaiono evidenti nella cronistoria dei fatti. Fonti attentibili, però, hanno fatto sapere che le indagini sulla villa misteriosa sarebbero più di una e quindi è probabile che presto arriveranno altre conclusioni e altre ipotesi di reato. Sulla vicenda pesano e restano irrisolti alcuni dubbi. Primo, come mai la Procura di Larino ha impiegato circa tre anni per concludere solo una parte delle indagini, nonostante la doppia sentenza emessa dal Tribunale civile di Larino a fronte di fatti acclarati dagli stessi testimoni indicati dalla PTS Village? Secondo, perché la PTS, originariamente di proprietà del solo Gianluigi Torzi, comprò l'immobile con soli 320 mila euro a fronte di un valore commerciale di circa un milione e mezzo di euro? Terzo, quanto ha pagato il presidente Paolo Frattura per acquistare il 50% di quote della PTS e quindi la metà proprietà della villa? Il governatore, se vuole fare chiarezza fino in fondo, deve completare la sua comunicazione, carendo tutti i misteri che ancora oggi avvolgono quell'operazione immobiliare. Ed ora la cronaca con il caso di tubercolosi riscontrato al Veneziale di Sernia. La malattia ha colpito un migrante di origini nigeriane, arrivato in città quattro giorni fa. In Molise non è stato possibile ricoverarlo a causa della mancanza di posti letto. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Un caso di tubercolosi è stato scoperto all'ospedale veneziale di Sernia. La malattia ha colpito un migrante di 27 anni proveniente dalla Nigeria, arrivato in un centro di accoglienza temporanea del capoluogo solo pochi giorni fa. La TBC è stata diagnosticata al pronto soccorso, dove era stato accompagnato da un altro richiedente asilo e da una mediatrice culturale, preoccupati per le condizioni di salute del giovane. Il paziente era visibilmente denutrito, aveva ancora addosso i segni delle percosse subite in Libia prima di imbarcarsi per l'Italia. I medici del reparto dell'emergenza del Veneziale hanno subito riconosciuto i sintomi della tubercolosi. Gli esami clinici hanno confermato i loro sospetti. Una volta accertata la patologia, è stato disposto il suo ricovero. Ma il nigeriano, suo malgrado, ha dovuto fare conti con un problema che i molisani vivono ogni giorno sulla propria pelle, la mancanza di posti letto. Al reparto di malattie infettive di Campobasso, infatti, non ce n'erano di disponibili. Alla fine è stato trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Al momento resta sotto stretta osservazione, in attesa di un miglioramento del quadro clinico. Da quanto si è appreso, la malattia riscontrata nel migrante nigeriano non sarebbe in fase avanzata e dunque non vi sarebbero rischi di contagio. In ogni caso, le persone venute a contatto con lui a scopo precauzionale sono state sottoposte a profilassi. Immediata la risposta del comune di Sernia alle polemiche scoppiate per il mancato adeguamento del Palasport, che per le nuove norme sulla sicurezza avrebbe causato la cancellazione dell'Isernia Calcio A5 dal campionato di A2. In un comunicato, Palazzo San Francesco ricostruisce tutta la vicenda che ce ne parla per noi Enzo Di Gaetano. La vicenda della mancata partecipazione al campionato di Serie A2 dell'Isernia Calcio A5 continua a scuotere l'opinione pubblica esernina sconcertata per la fine di un'esperienza finora esaltante. Ma sport a parte, soprattutto sui social, si è scatenata una pesante polemica nei confronti del comune di Sernia, messo sottotiro per il mancato adeguamento del Palasport Fraraccio, causa scatenante, a detta di molti, del ritiro della squadra. Ricapitolando, senza l'adeguamento previsto dalle norme di sicurezza, il Palasport non può andare oltre 200 ingressi a partita, tra tifosi, giocatori, arbitri e giornalisti. Si può facilmente capire che sarebbe stata una follia affrontare un campionato nazionale di A2 praticamente senza pubblico. Ma adeguare il Palasport per permettere la presenza di almeno 500 tifosi sarebbe costato almeno 400 mila euro, soldi che il comune di Sernia non ha e non è colpa né del sindaco d'Apollonio né dell'assessore Matticoli. Quest'ultima in particolare ha voluto precisare che non vuole passare come il capro espiatorio della situazione e dice sono profondamente addolorata come amministratice, cittadina e amante dello sport. Ma vorrei che si sapesse che noi come ente, fino a quando la notizia è stata ufficializzata con una nota stampa, eravamo completamente all'oscuro, nessuno ci ha avvertito, nessuno ci ha chiesto aiuto. Non dico che avremmo trovato la soluzione ma se mi avessero coinvolta mi sarei attivata immediatamente per scongiurare il peggio, convocando al più presto un tavolo tecnico con le parti, prefettura, questura, imprenditori, regione e in particolare assessorato allo sport. Abbiamo saputo solo pochi giorni fa dal questore del numero di posti contingentati al palazzetto con la riduzione a 200 in base alle nuove disposizioni in materia di sicurezza. Ieri appena dopo due giorni la società Isernia Calcio a 5 si è arresa, ma non è colpa nostra se sono venuti meno gli sponsor, noi non abbiamo responsabilità. Fin qui l'assessore Matticoli ma resta l'accusa di non aver trovato i fondi per l'imbiando di via Giovanni XXIII privo della certificazione di prevenzione incendi. Il palasporto infatti necessita dell'abbattimento delle barriere architettoniche con porte, vie di fuga e maniglioni antipanico da realizzare praticamente ex novo di un impianto antincendio, idrico, discarico e di riscaldamento oltre che di vetrate, tutti a norma di legge, infine di ulteriori riparazioni al tetto che impediscano le infiltrazioni di acqua piovana. Parliamo di 400.000 euro, spiega Matticoli, ma il Comune sempre per le pesanti eredità del passato con cui, nostro malgrado dobbiamo fare i conti, non ha la forza economica per sostenere questo impegno. Non a caso abbiamo partecipato al bando regionale per l'impiattistica sportiva. La gradatoria dovrebbe uscire a breve e se, come credo, rientreremo, potremo appaltare i lavori che ci consentiranno di avere la certificazione mancante, ma solo a partire da giugno prossimo. La CGL Molise ha presentato a Larino un documento programmatico per uscire dalla crisi. Sei le filiere individuate per un nuovo sviluppo che si affidi non solo alle risorse finanziarie, ma soprattutto alla valorizzazione del territorio. Con un'assemblea pubblica che ha richiamato iscritti, addetti ai lavori e numerosi sindaci del basso Molise, la CGL ha presentato a Larino il documento programmatico cucito apposta sulla regione Molise, che fornisce una serie di percorsi per uscire dalla crisi e per una nuova qualità dello sviluppo. Sei le filiere individuate per provare a tracciare un circuito progettuale virtuoso. Si parte con istruzione, formazione, ricerca e innovazione, agricoltura, quindi la tutela e valorizzazione del territorio, ancora cultura, ambiente e turismo, poi reti e infrastrutture, infine welfare e servizi alle persone. Insomma, un percorso che tocca tutti i settori e in grado di valorizzare a 360 gradi le peculiarità del territorio. A introdurre il documento il segretario generale CGL Abruzzo e Molise, Sandro del Fattore. Presentiamo il piano per il lavoro e lo sviluppo della regione Molise, che ha due caratteristiche importanti. Primo, noi intendiamo tutelare e salvaguardare un tessuto produttivo già esistente che rischia di essere messo in difficoltà dai colpi subiti nel corso di questi anni. Questa regione rischia di perdere alcuni insediamenti produttivi molto importanti. In secondo luogo c'è bisogno di prospettare un nuovo e diverso piano di sviluppo della regione, un diverso piano di sviluppo, uno sviluppo di qualità. Questo piano per il lavoro e lo sviluppo per la CGL rappresenta una cosa importante. Da oggi noi programmeremo iniziative, mobilitazioni unitarie, contrattazione sul territorio affinché questo piano non rimanga soltanto una cosa scritta ma diventi davvero conflitto, mobilitazione, costruzione di un'esperienza sindacale importante. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti, docenti universitari, amministratori locali, esponenti di associazioni culturali e di volontariato, diverse anche le testimonianze arrivate direttamente dai piccoli imprenditori locali. In Italia si parla di primi segnali di ripresa ma il nostro paese è ancora in fondo alle classifiche europee. Bisogna non solo fare affidamento sulle risorse finanziarie ma anche puntare sulle ricchezze di ogni territorio per uscire dalla crisi. Il Molise in questo ha ancora molto da scommettere, valorizzando il proprio patrimonio. Ne è convinto Franco Martini della Segreteria Nazionale della CGL. Non si può uscire dalla crisi se non è tutto il paese ad uscire dalla crisi, cioè se non vengono superati gli squilibri fra le diverse aree del paese. La crisi ha prodotto come effetti purtroppo una ulteriore polarizzazione tra aree forti e aree deboli, tra i ricchi e i poveri. E allora si esce sicuramente destinando maggiori risorse allo sviluppo, alla politica industriale innanzitutto ma a tutte le politiche di sviluppo. La proposta che la CGL del Molise oggi mette in campo è una proposta che conferma che una via di uscita dalla crisi sta anche e innanzitutto nella valorizzazione di questo patrimonio che è rappresentato dalla cultura, dalla storia, dall'inventiva, dall'intelligenza delle nostre aree territoriali. Intanto Gianni Notaro, segretario generale della CISL, torna a parlare dell'area di crisi e fa il punto della situazione. Sentiamo. Anche Gianni Notaro, segretario regionale per l'Abruzzo e per il Molise della CISL a questo incontro importante sull'area di crisi. Ormai ci siamo, tra ottobre e novembre le carte saranno svelate. Quali saranno secondo i sindacati le conseguenze di questo piano? Noi speriamo che le conseguenze siano quelle annunciate e su cui abbiamo lavorato. Quindi cominciare a valutare questa consistenza delle manifestazioni di interesse, se si traducono in investimenti e se danno quel risultato occupazionale che noi ci attendiamo, visto l'esito e l'entusiasmo su cui pure Arcuri già da inizio anno aveva dato ampia dimostrazione. Siamo finalmente nella fase operativa e noi ci siamo e daremo il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto e anche impegnando tutti i nostri livelli dell'organizzazione. Quali sono i settori maggiormente in sofferenza in Molise? I settori maggiormente in sofferenza, se parliamo di area di crisi, chiaramente il tessile, su cui noi abbiamo un know-how importante, però dobbiamo vedere se ci sono manifestazioni di interesse adeguate. Poi c'era l'edilizia, ma l'edilizia si sa che è un traino diverso che riparte più per gli investimenti quelli pubblici, mentre sul metalmeccanico si sta tenendo anche per effetto dell'automotive per il Basso Molise con dei risultati positivi anche da parte di Cassino su questo territorio. Dai vostri auspici, quali numeri dovranno derivare da questi fondi per l'area di crisi? Tante migliaia i posti di lavoro persi in questi anni, quindi come si potrà sopperire secondo voi, secondo le vostre stime, le vostre previsioni? Sicuramente ci sarà una fase in cui si vedrà molta occupazione, che però non di certo sarà quella stabile e quella buona che noi vorremmo, però intanto è importante che si riparta. Speriamo che quel report di Excelsior abbia detto qualcosa di vero per dare sia un po' di fiducia al territorio, ma sia un po' di fiducia soprattutto ai giovani e a quelle persone che avanti con l'età magari temono che non ci siano più le opportunità. L'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciolla ha risposto alla nota del vicepresidente dell'ACEM Carmine Abiuso riguardo il disagio manifestato dalle aziende edili per i ritardi nella riscossione dei pagamenti dei lavori finanziati con il programma di sviluppo rurale. L'assessorato alle politiche agricole ha reso noto che le problematiche di natura informatica riscontrate nei giorni scorsi sono state risolte. Tutti i comuni interessati sono stati avvisati, ha detto ancora Facciolla, già possono rilasciare la domanda di pagamento per liquidare i corrispettivi maturati dalle imprese edili. Si è presentato ufficialmente alla stampa e ai cittadini il Movimento Molise Nostro che scenderà in campo in occasione delle prossime elezioni regionali. Non siamo legati ai partiti ma vogliamo coinvolgere la gente per far rinascere il Molise, hanno detto i promotori. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. Si affaccia sul panorama politico regionale il Movimento Molise Nostro pronto a scendere in campo in occasione delle prossime elezioni. Il nuovo soggetto che non ha appartenenze partitiche ma che vuole rappresentare il punto di riferimento per quanti intendono dare una svolta ad un Molise fermo bloccato da tante emergenze, da lavoro che non c'è più alla sanità pubblica letteralmente smantellata. Nasce dunque da questa esigenza di rinnovamento avvertita da più parti e chiesta a gran voce dei cittadini. Molise Nostro si è presentato ufficialmente a Campobasso alla presenza di un nutrito pubblico. Tra i promotori Giampaolo Presutti, eletto presidente del Movimento, Fedele Clemente, Fabio Cofelice, il consigliere comunale di Campobasso Pietro Montanaro, ma in sala si è notata la presenza di numerosi esponenti politici di centrodestra e di centrosinistra, dimostrazione della trasversalità che caratterizza Molise Nostro. L'obiettivo è stato detto nel corso della manifestazione, quello di ridare fiducia ai cittadini sempre più delusi, amareggiati da una politica troppo distante dai problemi quotidiani, sempre più chiusa nel palazzo. La parola chiave del Movimento è condivisione, condivisione delle scelte, delle proposte con le quali presentarsi agli elettori molisani, condivisione degli obiettivi da raggiungere. La prima uscita ufficiale di Molise Nostro è stata ampiamente positiva, la risposta della gente c'è stata. Ora, hanno detto i promotori, bisogna mettersi al lavoro e gettare le basi per un'alternativa all'attuale classe politica dirigente che si è dimostrata del tutto inadeguata a governare una regione ormai sull'orlo del Baratro. È arrivato il momento di voltare pagina. L'ex premier e attuale segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi torna in Molise. Il 19 ottobre arriverà a Termoli con il treno PD e il 24 ottobre sarà a Venafro e Isernia. Il tour prenderà il via il 17 ottobre dalla stazione Termini e toccherà 107 province in 17 giorni. La prima tappa dunque in Molise e a Termoli il 19 ottobre alle 19 e 45. È in programma un incontro con lavoratori e imprenditori a Campomarino. I carabinieri di Campobasso hanno arrestato un uomo di 27 anni. Poco prima aveva minacciato un malmenato e rapinato un ragazzo di 18 anni, trascinandolo all'interno della villa De Capo. Il servizio. I carabinieri hanno arrestato per i reati di rapina e lesioni un 27enne originario della provincia di Pescara ma residenti a Campobasso. I militari hanno accertato che l'uomo ieri mattina mentre si trovava all'interno della villa comunale De Capo a colpi di minacce e violenza ha sottratto ad un 18enne di Campobasso il proprio smartphone. La lite 32 è iniziata nei pressi della vicina sede del servizio per le tossicodipendenze dove si erano incontrati. Qui dopo il rifiuto di un prestito temporaneo del proprio telefono da parte del 18enne, l'altro ha reagito trascinandolo a forza nel parco cittadino dove lo ha colpito poi con calci e pugni impossessandosi alla fine dell'oggetto. Il giovane era riuscito a sottrarsi all'aggressore e a raggiungere la propria abitazione dove è raccontato l'accaduto ai familiari che hanno richiesto immediatamente l'intervento dei carabinieri. Le indagini hanno permesso di risalire all'identità del responsabile che ricercato dalle pattuglie in circuito è stato poi rintracciato in una pubblica strada vicino a un'area residenziale della città. Addosso aveva ancora il cellulare rubato che è stato sequestrato dai carabinieri. La vittima, visitata al pronto soccorso, ha riportato delle contusioni al corpo e al volto fortunatamente non particolarmente gravi. Il 27enne invece è stato arrestato e si trova rinchiuso nel carcere di Via Cavour. Una pagina Facebook per segnalare disagi e degrado a Campobasso, quella che è stata creata e dove è possibile postare foto e video. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Oggi i social network riempiono una parte consistente della vita di moltissime persone, piattaforme virtuali sulle quali dialogare, ritrovarsi, confrontarsi, spesso apprendere o dare e condividere informazioni, notizie, ma sono anche luoghi di polemiche purtroppo fese. Tutti i social hanno i loro lati negativi e positivi. Vengono spesso create pagine per segnalare alle autorità preposte e alle amministrazioni disagi e situazioni particolari. C'è chi, ad esempio, su Facebook ha creato una pagina dal titolo, è stato specificato provocatorio Campobasso fa schifo, un po' sul modello di Roma fa schifo, per denunciare situazioni di degrado urbanistico e ambientale. Sono gli stessi cittadini a postare foto e video con didascalie esplicative di marciapiedi, invasi da erbacce o rotti, sporcizia, strade dissestate, segnaletica carente, pensiline tutt'altro che decorose, abbandono e sporcizia come nel caso del terminal bus e tanto altro ancora. Situazioni che in realtà ci vengono segnalate in maniera ricorrente anche dai nostri telespettatori che chiamano in redazione. In sostanza, un invito ai Campobassani a farsi vivi con foto e video su una piattaforma virtuale dove gli amministratori di Campobasso sono comunque presenti, interagiscono su più temi dal sindaco agli assessori. Un modo è stato sottolineato per invitare gli stessi amministratori ad agire laddove vengano segnalati disagi e disservizi di ogni tipo. I curatori della pagina Facebook Campobasso fa schifo ci tengono a far sapere che sono graditi gli interventi dei cittadini così come le loro opinioni, ma chiedono espressamente di non esprimere insulti perché la civiltà di un popolo si vede anche da queste cose. In tutto il mondo, per gli appassionati di canto lirico e non, oggi è il Mario Lanza Day, ricordando in questa data l'improvvisa scomparsa a soli 38 anni del grandissimo personaggio di origini molisane. Alfred Cocozza, questo è il suo nome di battesimo, era infatti nato in America da padre di Filignano e madre di Tocco da Casauria. La sua visita ufficiale nel paese d'origine è esattamente 60 anni fa, nel settembre 1957, due anni dopo, sarebbe morto a Roma in una clinica dove era ricoverato. Filignano e il mondo intero ricordano oggi l'estro, il talento, la naturalezza e la gioia del cantare di Mario Lanza, che negli anni 50 furono alla base di un successo incontenibile, portandolo ai fasti di Hollywood. A Mario Lanza viaggio in Molise dedicò alcuni anni fa una puntata speciale che sarà riproposta eccezionalmente oggi su Tele Molise alle 15.30, alle 19 e alle 20.30. Questo pomeriggio a Trivento appuntamento con la lettura. La giovane autrice molisana Sabrina Itzi presenta il romanzo dal titolo Anche la pioggia nelle scarpe. Dopo la presentazione in alcuni comuni molisani, oggi dunque sarà a Trivento nella sala del seminario Vescovile, un evento in cui la lettura dei brani sarà accompagnata da sottofondi musicali e filmati per accompagnare gli ospiti in questo viaggio tra i filari d'Uva, dall'Italia alla California e fino al Messico. L'appuntamento dunque alle 18 nella sala Vescovile di Trivento. E a termo ritorno all'appuntamento con la campagna di prevenzione Nonno Ascoltami. Domani dalle 10 alle 20 in Piazza Monumento, visite e controlli gratuiti dell'udito per tutti con i medici del reparto di Otorino dell'ospedale Santimoteo. L'iniziativa è stata presentata in direzione sanitaria. Per noi c'era Fabrizio Occhionero. Un appuntamento che conferma l'impegno per migliorare la qualità della vita e diffondere un messaggio significativo, quello della prevenzione dei disturbi dell'udito. Domenica 8 ottobre in Piazza Monumento a Termoli torna l'iniziativa Nonno Ascoltami. I medici del reparto di Otorino dell'ospedale Santimoteo, personale specializzato e volontari saranno a disposizione per visite e controlli gratuiti dell'udito rivolti a tutti. L'evento è stato presentato in direzione sanitaria per condividere un progetto di rete territoriale. La prevenzione è la prima cosa. Anche perché sappiamo che molto spesso una volta instaurati certi danni non tornano più indietro. Quindi riuscire a sensibilizzare le persone nei confronti di quelli che sono gli elementi di rischio per l'udito è fondamentale. Questa è un'iniziativa che serve anche a questo. Cioè riuscire a individuare delle lezioni anche iniziali su cui poi si può lavorare con la prevenzione per evitare peggioramenti. Ma anche semplicemente per far sì che la gente passando vicino a questo gazebo si renda conto che l'udito è un senso importantissimo, forse il più importante. Un nuovo simbolico come ambasciatore della prevenzione a rappresentare la fragilità dell'udito consegnato al dottor Serafini e al direttore sanitario Filippo Vitale che ha ribadito l'impegno della ASREM per sostenere le attività di prevenzione con gli screening inseriti nei livelli essenziali di assistenza. La campagna nazionale patrocinata dal Ministero della Salute si attesta come un punto di riferimento nei giorni in cui si ricorda anche la festa dei nonni. Sono 36 piazze in 15 regioni, un numero di persone che stanno intervenendo tra l'altro perché siamo, questa è la terza domenica che abbiamo davanti su sei domeniche di prevenzione. Abbiamo una risposta importante, sono tantissimi cittadini che si stanno recando in piazza per incontrare il proprio medico sottoponendosi a una visita specialistica, un controllo gratuito dell'udito. In piazza Monumento i volontari della Croce Rossa, partner di Nonno Ascoltami e l'Istituto Acustico Maico. Siamo molto contenti e orgogliosi di essere partner davvero dalla prima ora di un evento che ormai è diventato nazionale e ci sta dando davvero grandi soddisfazioni. Si rinnova l'invito domenica 8 ottobre dalle 10 alle 20 in piazza Monumento a Termoli. Il maltempo di ieri con pioggia e vento ha costretto gli organizzatori a rinviare a venerdì e sabato prossimi l'Octoberfest di Ripalimo Sani. L'evento organizzato da Asso Barra in collaborazione con Comune e Proloco venerdì 13 e sabato 14 ottobre sarà quindi riproposto in piazza San Michele. Bene, con questa notizia ci fermiamo. È tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.